Ciao, io sono Elia Calò, ben ritrovato al Giardino Sotto il Naso, ci troviamo qui nel Bar Mita e siamo pronti per un nuovo interessante episodio. In questo video ti parlerò di come aprire in maniera professionale una bottiglia di vino al banco bar o in casa. Io sono un bartender professionista, appassionato e studioso di erbe spontanee, ideatore di Amaro Saturo, di Cuore Pineta e Bermut Mita, ma ora andiamo a scoprire come aprire la nostra bottiglia di vino. Viene, prima di cominciare mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella. E via, riprenditi. Ah, stiamo scherzando, volevo far vedere che me la sono bevuta la bottiglia di vino, perché c'è una bottiglia di vino vuota. Quindi mi raccomando, prima di cominciare iscriviti al canale e clicca sulla campanella, din-don, ormai è chiaro. Allora, quindi, innanzitutto perché ho deciso di registrare questo video? Perché una delle mie difficoltà iniziali, appunto, quando ho cominciato a lavorare dietro un banco bar, era l'apertura di una bottiglia di vino. In realtà mi sono trovato a lavorare con persone che sapevano il fatto loro e con altre persone che erano i miei superiori, che ho già, ma sì, dai, apri, dai, giusto, prendi e versa. Ok? E ho visto un po' di tutto. Io, sinceramente, vorrei che tu evitassi che succedesse questa cosa qui anche a te, perché ne va della tua immagine e della tua professione. Perché comunque, anche se stai imparando, è bene imparare, secondo me, partendo con il piede giusto. Ok? Quindi, prima di tutto, andiamo a prendere la nostra bottiglia di vino. Le bottiglie di vino, come sicuramente avrai sentito, insomma, le bottiglie di vino andrebbero conservate, perlomeno, in una posizione orizzontale o semi-orizzontale. Questo è, non so se ci ha mai fatto caso, ma in quest'angolo io conservo alcune bottiglie di vino. Altra regola generale, la bottiglia di vino dovrebbe essere trattata, diciamo, come un bambino di un anno, dico sempre io, no? Quindi, quando prendiamo la bottiglia, non la prendo dal collo e vado in giro così, con questa bottiglia, perché io con un bambino di un anno non farei così. Quindi, magari, sì, la prendo, l'accompagno e le mie movenze e il mio modo di trattare bene la bottiglia è anche, secondo me, una forma di rispetto per chi ha prodotto, insomma, questo vino. Che, non so se hai avuto mai la possibilità di vendemmiare o di vedere come si fa una vendemmia, ragazzi, c'è tantissimo lavoro dietro, quindi è una sorta di forma di rispetto. E detto questo, io quindi andrò a prendere la mia bottiglia di vino e andrò a darti delle piccole accortezze. C'è un piccolo accorgimento, tu magari ti starai dicendo, eh ma questo adesso da dove viene fuori, fino ad adesso ho parlato di bar e adesso ci parla di vino. In realtà, io nel 2008 ho completato i miei studi, quindi sono un sommelier professionista con AIS, che è appunto l'associazione italiana sommelier Veneto, quindi Venezia in realtà, e dal 2008, quindi io ho sempre comunque lavorato e poi vino e bar vanno sicuramente di pari passo, quindi ti consiglio di approfondire l'argomento. Andiamo quindi a prendere la nostra bottiglia dalla nostra cantina, ok? Quindi andrò a prenderla delicatamente e in questo modo andrò, quindi posso scegliere di portarla al tavolo nel caso l'avessero ordinata, ma in questo momento io andrò a focalizzare l'apertura appunto della bottiglia al banco bar, che poi in realtà è la stessa cosa che tu potresti fare magari a casa con i tuoi amici o con i tuoi familiari. Molto spesso magari far vedere come si aprite una bottiglia di vino in maniera professionale anche con i familiari, con gli amici, insomma sicuramente aiuta a fare bella figura o no. Quindi io ho preso la mia bottiglia e non è la stessa procedura rispetto all'apertura di vino a tavola, quindi al tavolo in questo caso, ma te lo farò vedere in un altro video perché ci sono delle cosette un pochino diverse. Quindi prendo la mia bottiglia, l'etichetta, come abbiamo sempre detto, va rivolta sempre verso il cliente in modo tale che loro abbiano, che poi il cliente sia al banco o che sia al tavolo non ci interessa, ok? Noi cerchiamo sempre di far finta che qualcuno stia osservandoci, ok? Una sorta di grande fratello e quindi magari anche un semplice cliente che passa dall'esterno e spie dalla finestra e ci vede lavorare, secondo me diamo una bella impressione e magari potrebbe cambiare idea o cambiare percorso, entrare dentro e prendere un drink da noi, quindi perché no? Quindi di che cosa abbiamo bisogno innanzitutto? Abbiamo bisogno di una bottiglia di vino, di un piattino per gli scarti, diciamo così, dell'apertura e di un tovagliolo di servizio e anche su questo farò un video dedicato a come prepararlo in maniera particolare, possibilmente scuro, soprattutto se lavoriamo con vino rosso, in modo tale che non si notino molto le macchie, ok? Poi abbiamo bisogno di un cavatappi, in realtà abbiamo bisogno di un cavatappi particolare e di questo ne andrò a parlare fra poco anche e poi possibilmente di un tappo per poterlo richiudere e poi parleremo anche di questo aggeggio qui che è una pompa ad aria. Ci sono delle cose che sono opzionali, diciamo così, non per forza devi averle, ma questi di solito sono dei kit che vendono e sono per esempio uno stopper, questo qui è un piccolo collarino che va messo sulla bottiglia una volta aperto e ci serve appunto per eventualmente assorbire la goccia di vino quando cade per non farla scolare, quindi per non far sporcare la tovaglia. Qui abbiamo un piccolo tappo che serve come appunto stopper, come tappo e questo qui è molto interessante, a volte troviamo anche delle linguette in realtà di metallo o comunque sono tipo di plastica argentata che va messa appunto nel collo della bottiglia e serve appunto per avere un flusso più diciamo più fluido e quando andiamo ad alzare la bottiglia il flusso termina senza fare la gocciolina, ok? Quindi questo qui ci tornerà sicuramente molto molto utile. Prima di procedere appunto all'apertura ti consiglio di andare a controllare nel tuo mobiletto di casa che cosa abbiamo a disposizione o meglio che tipo di cavatappi hai a disposizione, quindi oggi andrò ad introdurre un termine che non ho mai utilizzato ma ho notato che con i miei studenti insomma rimane abbastanza impresso, ci sono dei cavatappi buoni, dei cavatappi, questo è il termine nuovo, caccapopù, caccapopù significa no, no, no buono, no buono, ok? Questo qui è un... partiamo dal cavatappi caccapopù, questo cavatappi effettivamente sembra figo, sembra bello, ma ha un problema, come un po' tutti i cavatappi di casa, diciamo di famiglia, in realtà ho già fatto un piccolo approfondimento sul cavatappi, quindi come è composto eccetera eccetera e questo cavatappi qui ha sì la parte del coltellino per tagliare la capsula, lo vedrai fra poco, ha sì il vermetto per entrare dentro quindi e per togliere il tappo, ma questa qui che è appunto una leva, ha un unico gradino lo chiamo io, ok? E noterai una differenza, adesso questo qui è una via di mezzo in realtà, la differenza che c'è fra questo e questo, eppure questo qui è uguale, vedrai che questi due, uno e due sono un po' più lunghi, perché hanno doppio gradino, quindi hanno un doppio gradino chiamiamolo così, questo ci aiuterà a smorzare la leva, cioè se io ho un unico, faccio così con questa, ragazzi, le etichette sono diciamo giusto così, la bottega ci siamo bevutino, tra l'altro saluto il nostro amico Domenico, cioè che, quindi si avvita e andrò a fare un'unica leva, come vedi la parte del verme, quindi della spirale, è un po' obliqua, questo significa che quando andrò a fare leva, faccio molta forza qui sul collo della bottiglia e quindi in più il verme è piegato, questo significa che potrei facilmente spezzare o rovinare il tappo all'interno se è di sughero, oppure si potrebbe scheggiare il collo della bottiglia, quindi questo cavatappi cacca pupù, te lo sconsiglio alla grande, poi se hai questo magari con un pochino di attenzione, ecco, se hai già un pochino di pratica puoi comunque utilizzarlo, ma sicuramente molto meglio questo, questo qui si utilizza, quindi fa il primo step, ma come ti farò vedere e poi il secondo passaggio con questo, questo qui in realtà è molto più comodo, è l'ideale, c'è una marca particolare però, segui questo qui con doppio snodo, va bene? Dopodiché possiamo quindi procedere, andrò a mettere quindi la bottiglia sul nostro piano di servizio, diciamo così, andrò a togliere prima la capsula, facendo questa attenzione qui, come hai notato anche in questa bottiglia, il taglio è sotto il secondo, diciamo sotto il secondo anello qui, per quale motivo? Il taglio si fa così ed è bello e pulito, perché, per due motivi in particolare, il primo è una questione di pulizia, quindi una questione igienica, perché questa bottiglia potrebbe essere stata esposta a polvere, il trasporto, quello e quell'altro, quindi se io taglio in questa, diciamo un po' più sopra, come spesso si vede, quando io vado di solito a versare, avete notato sicuramente che c'è una gocciolina di vino che rimane qui a contatto appunto con la parte esterna della bottiglia e quindi in quella parte esterna della bottiglia potrebbe esserci qualche residuo di qualcosa che non va bene e quindi se quella goccia rimane a contatto, quando va a finire nel bicchiere potreste dare qualcosa diciamo di cattivo nel bicchiere. Un altro fattore è invece legato al discorso ossidazione, questo diciamo è molto più legato alle degustazioni che si fanno, quindi quando abbiamo a che fare con dei vini molto pregiati e o comunque di qualità e andiamo a fare delle degustazioni con dei palati molto affinati. Questa capsula qui esterna è di un vino diciamo di un livello alto, cioè buono ecco, quindi è la capsula è in alluminio e non è in plastica, l'alluminio è un metallo quindi a contatto con quella gocciolina di vino che si va a fermare per un attimo qui quando andiamo a versare potrebbe ossidarsi, seppur stiamo parlando di veramente di pochissimo però potrebbe influire anche nella degustazione quindi potrebbe un po' sballare la degustazione, quindi questi sono i due motivi e in più una bottiglia tagliata così con un taglio bello netto e dà un'impressione appunto di un taglio pulito. Bene, andrò ad avvicinarmi un piattino, andrò ad avvicinarmi il mio tavoliolino di servizio e chiaramente dovrò avere dei bicchieri già pronti, sui bicchieri farò giusto una piccola parentesi dopo aver aperto il bicchiere, quindi andrò a aprire il coltellino, la bottiglia non dovrà muoversi o comunque dovrà essere mossa il meno possibile, quando prendono le bottiglie e vedi che fanno così non va bene ok, perché state maltrattando la vostra bottiglia, quindi andrò a impugnare in questo modo, quindi un po' come se fosse una pinza, andrò a mettere il coltello da una parte e il pollice mi farà da pinza ok, un po' come se fosse così, andrò con l'altra mano cercherò di mantenere la bottiglia ferma nel caso mi dovesse sfuggire e ricordatevi sempre di farvi questa domanda di farti questa domanda, se mi dovesse scappare il coltellino adesso, quante dita mi taglio? se la risposta è nessuna, come puoi vedere qui, se la risposta è nessuna, nessun dito, allora vuol dire che stai facendo il movimento giusto, andrò ad utilizzare la punta piuttosto che la parte di qua perché la punta è quella che incide meglio la parte della capsula, come abbiamo già detto uno, ho fatto la prima incisione, posso anche ripetere l'incisione per essere sicuro che abbia tagliato bene a questo punto abbiamo detto che la bottiglia, l'etichetta deve essere sempre rivolta verso il cliente quindi non andrò a girare la bottiglia ma farò un'altra cosa, andrò a girare il cavatappi quindi andrò a invertire il senso del coltellino e andrò a tagliare la parte posteriore stessa cosa, quindi andrò a fare la pinza non con il pollice ma con l'indice mi assicuro che sia tagliato per bene, quindi posso anche ripassare di nuovo dopodiché dovrò fare un taglio un po' come se fosse l'elmetto di un guerriero quindi taglio sotto, taglio centrale e un altro taglio qui in modo tale da aprire un po' come se dovessi aprire l'elmetto di un guerriero quindi faccio un taglio sopra, sempre con l'altro pollice a contrasto in modo tale che non mi scappi il coltellino, quindi metto il pollice su e faccio questo taglio trasversale, cioè verticale in questo modo, penso che si veda un pochino dopodiché vado a fare un altro taglio sopra ed eccoci qua, come vedi si stacca in automatico ecco il nostro elmetto aperto quindi questo andrò a appoggiarlo qui sopra richiudo il coltellino e vado a dare la prima pulita sul collo della bottiglia a questo punto mi rendo conto di che tipo di tappo c'è in questo caso è un tappo di silicone quindi posso andare anche più tranquillo ho comunque pulito la parte esterna del collo della bottiglia e vado a prendere il mio verne quindi la mia spirale andrò ad inserirla, quindi andrò a mettere la punta del dito indice sul centro del tappo quindi al centro del tappo in questo modo vado a premere un pochino e vado a dare una prima avvitata assicurati bene che la mano opposta se sei destro, quindi la mano sinistra deve mantenere la bottiglia ben ferma e andrò ad avvitare se vedi che il cavatappi è un po' storto non continuare ad avvitare ma addrizzalo un pochino in modo tale che poi quando andiamo a fare la leva non andremo a spezzare il tappo o comunque a creare troppa forza sul collo e andare a scheggiarlo a questo punto è un tappo di silicone quindi non c'è bisogno di avvitare più di tanto quindi è un tappo resistente andrò ad abbassare questa un pochino e andrò ad abbassare quest'altra leva come puoi vedere andremo ad agganciarci a questo primo gradino del cavatappi andrò con la mano sempre sinistra a mantenere, basta con un dito a mantenere la leva di metallo in modo tale che non scappi altro errore che spesso vedo fare è questo quindi fare la leva dal basso verso l'alto in questo modo questo però vi consente di non avere controllo del tappo quindi potrebbe partirvi e per esempio far volare tutto invece dovete fare un po' come se doveste fare a braccio di ferro con un vostro amico quindi andate ad impugnare il cavatappi in questo modo l'altra mano terrà ben ferma appunto la parte iniziale e andrò a utilizzare sia il polso in questo modo che la spalla quindi io riesco ad avere un'apertura molto soffice quindi spero che si veda abbastanza anche dalla telecamera da questa qui faccio uno come vedi ho usato solo il polso dopodiché quando sono arrivato quasi al massimo di questo gradino qui andrò a riabbassare la leva li aggancio di qua e andrò a fare un secondo passaggio idem sempre con il polso e andrò a questo punto quando vedo che sta per uscire mi raccomando non fare il perché quel suono è un qualcosa di molto brutto ok? non si fa caccapupù ok? anche per galateo è una cosa molto brutta da fare quindi quando mi rendo conto che sta per uscire andrò a piegare poco poco il cavatappi in modo da farlo sfiatare sentiamo il suono questo va bene ok? quindi andrò a togliere il tappo a questo punto non con le mani soprattutto se è un tappo di sughero insomma ecco non andrebbe fatto questa cosa qua vado a quindi mantengo il nel tovagliolino di servizio e andrò a appoggiarmelo qua questo lo tolgo e siamo pronti posso eventualmente soprattutto se è di sughero posso dare giusto un'altra ripulita in modo tale che non ci siano residui di sughero sulla parte superiore e siamo pronti per il servizio abbiamo detto che in questo caso andremo semplicemente a versarlo in un bicchiere e andrò a scegliermi in base alla tipologia di vino un bicchiere quindi se è un vinello diciamo semplice semplice oh raga potreste servirlo anche in un bicchiere brutto così se siete in un'osteria se siete se è un vinello da assaggiare così un vinello giovane potreste servirlo anche in questo bicchiere qua perché no ma se volete dare un po' come una bella ragazza con un tacco a spillo dovreste cominciare a lavorare con bicchieri tipo questo qui questo qui in realtà è per vino bianco vino rosato o per un vino rosso giovane questo qui in realtà è un vino così niente di niente di grande speciale però se volete fare veramente bella figura più è grande il bicchiere più cioè più il vino rosso invecchiato e stolturato più il bicchiere dovrebbe essere grande quindi scegliete voi in quale versare sicuramente in questi due no e quindi la domanda adesso è come versare e quanto versare allora sul come versare abbiamo visto già delle tecniche di versaggio quando abbiamo fatto appunto le tecniche di versaggio a collo libero quindi in questo caso andremo o a impugnare la bottiglia dal retro etichetta e semplicemente versare in questo modo oppure prendere dal fondo della bottiglia mai mettere il dito dentro mi raccomando e mantenere con facciamo finta che verseremo in questo andrò questo lo togliamo andrò a mantenere con la mano opposta a quella con la quale sto versando il bicchiere e andrò a versare sempre con l'etichetta rivolta verso il cliente ok quindi scegli o così o così la domanda successiva è quanto ne verso quanto ne verso diciamo che siamo fra i 10 e i 12 cl adesso questa cosa qui chiaramente dipende un po' dalla tipologia di locale in cui siamo dal tipo di vino che diamo eccetera eccetera se vogliamo essere precisi non abbiamo alternative cioè dovremmo utilizzare il misurino o meglio il jigger del vino che in italia non l'ho visto tantissimo però esiste e questa è una foto che ti fa vedere appunto si trova tranquillamente anche su internet io non ce l'ho qui però insomma dovrò procurarmi in realtà noi qua non sbicchieriamo più di tanto chiaramente se loro compro tutta la bottiglia non importa ok ma se dobbiamo dare il diciamo la porzione e noi vogliamo ottenere un tot di porzione da quella bottiglia dobbiamo essere precisi e quindi il misurino con il misurino così come per gli alcolici e come per gli altri alcolici per non sbagliare usi il jigger del vino in questo caso e non sbagli mai ok a questo punto scegli se mettere questo qui se mettere e versare con questo qui scegli tu puoi versare anche senza niente e mi raccomando quando vai a versare ma questo te lo farò vedere di nuovo e fai sì che tu abbia sempre questo tovagliolino di servizio quindi solleva e fai un mezzo giro in modo tale che la goccia di vino vada a spargersi un pochino sul collo della bottiglia e vai ad asciugare te lo faccio vedere velocissimamente uno, due e asciugo ok infine quindi una volta aperta la bottiglia di vino ammettiamo che questo vino ormai è già uscito ammettiamo che questo vino è già uscito adesso se lo lascio aperto si ossiderà molto velocemente quindi posso semplicemente prendere il tappo con il quale ho aperto e rimetterlo dentro ok posso prendere un altro tappo e metterlo dentro ok oppure posso usare uno di questi stopper qui che è più elegante ok ma il modo migliore per conservarlo è quest'altro strumento che ti consiglio di valutare è una pompa che appunto aspira l'aria all'interno della bottiglia e questo fa sì che si ossidi che rallenti il processo di ossidazione quindi andremo a mettere il tappo all'interno e andremo semplicemente ad aspirare una parte di aria basta ed è fatto quando dobbiamo appunto riaprirlo basta fare avete sentito che fa così e siamo pronti questo potremo poi dopo il secondo bicchiere o il terzo quello che è andremo a ripompare di nuovo ok è vero che questo video ti possa tornare utile questo è l'aspetto più pratico in assoluto che tu possa avere nell'apertura di una bottiglia quindi mi raccomando se ti è piaciuto questo video un bel pollice all'insù commenta e condividi con i tuoi amici in questo modo mi darai la possibilità di continuare a crescere a darti maggiore contenuto gratuito approfitta dei commenti se magari c'è qualche argomento che vorresti approfondire e mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella in questo modo rimarrai sempre aggiornato e non ti perderai neanche in episodio non resta altro e dirci ci vediamo presto anzi prestissimo alla prossima ciao